Un'importante tela che ha bisogno di un restauro abbastanza approfondito, questo sarà possibile grazie a un'iniziativa del FAI che voi avete accolto con grande entusiasmo. Un'iniziativa molto importante, ringraziamo il Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Pesolo Urbino che si è proposto per organizzare un'iniziativa di raccolta fondi che concorreranno al restauro della tela da consegna delle chiavi del Maggini che si trova ancora oggi a decorare l'altare maggiore di San Pietro. È un'iniziativa importante per diversi motivi, non solo per lo scopo meritorio ma perché il FAI intende stabilire una collaborazione col Comune di Fano come già è successo col Comune di Pesolo e noi siamo apertissimi a questo coinvolgendo ovviamente i suoi iscritti, coinvolgendo la cittadinanza. C'è un bellissimo concerto organizzato il 22 luglio presso la chiesa di San Domenico che è stata messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio, di Risaridolfi e dell'Ensemble del Barrio, quindi l'occasione per passare una serata musicale interessante, un aperitivo nel suggestivo Chiostro delle Benedettine, la raccolta fondi consiste in un versamento di 25 euro che sarà sostanzialmente oltre per pagare le minime spese, perché tutti hanno agevolato questa operazione, i musicisti per primi, per concorrere appunto alla spesa necessaria per il restauro. Poi c'è l'opportunità di visitare la galleria dell'orofo Facchini che ha messo a disposizione questo spazio, la signora Facchini era una iscritta FAI e quindi c'è un doppio motivo, quindi è tutta la città che comincia a concorrere intorno al Fondo Ambiente Italiano per il restauro di un'opera emblematica e significativa che è all'interno di uno dei più bei monumenti della città.